Una proposta di legge rivolta ai giovani con età compresa tra gli 11 e 40 anni, finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche giovanili attraverso una maggiore integrazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale, è stata presentata questa mattina dal gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Questa proposta di legge è una legge di sistema, non entra nel merito di interventi settoriali, vuole però far sì che si cambi l'approccio della politica, quindi un lavoro degli assessorati in sinergia, il tema della pianificazione, della partecipazione attiva e della istituzionalizzazione delle consulte in quello che saranno poi le scelte che la politica dovrà fare verso i giovani. L'obiettivo principale è occuparsi dei giovani, ce ne siamo occupati tutti poco in campagna elettorale, sono una parte importante della nostra società, rappresentano in futuro la nostra comunità, sono purtroppo una parte minoritaria, parliamo del 30% della nostra popolazione, ormai sono sempre meno, ma come segnale importante ai partiti d'Italia che vorremmo dare all'inizio della legislatura e depositare subito una legge che riguardi proprio i giovani. Tra l'altro è una legge che già aveva visto un lavoro nella precedente consigliatura e che è stata scritta insieme ai giovani ed è una legge per i giovani. Vi aspettate una collaborazione da parte della maggioranza? Guardi, durante l'insediamento il Presidente Comandini ha teso la mano alla collaborazione da parte dell'opposizione, la stessa cosa ha fatto l'assessore all'istruzione dicendo che vuole avviare un confronto sui giovani. Fratelli d'Italia c'è e disponibile e pronta ad un confronto costruttivo, serio e rispettoso.